Ciao ragazzi, io sono Brembi e oggi voglio farvi vedere la strategia che io ho usato da quando ho fatto la completion dell'Atlas fino ad adesso, per farmare currency e gold. Il mio obiettivo con questa lega è portare più in fretta possibile King's March a livello massimo, quindi mi interessa tanto fare mappe veloci piene di mostri, perché mi danno tanto gold, mi permettono di farmare tante risorse e devo dire che questa strategia l'ha fatto veramente bene e anche a livello di currency non ci si può lamentare. Adesso partiamo col video, io vi metterò in un angolo in basso a destra una mappa di esempio, la vedrete lì intanto che vi spiego le cose, così se siete curiosi potete dargli una spiata ogni tanto. Ovviamente a livello di currency è stata la mappa più sfigata che abbia mai fatto, la mappa dopo ho droppato un divine, per dire, però a livello di gold ne ho farmato un botto, quindi le cose si equalizzano abbastanza. Ricordate che se volete vedere altri video del genere potete iscrivervi al canale e attivare la campanella che così verrete avvisati e noi partiamo subito. Prima cosa ovviamente è la strategia, come vedete questo è un albero da 130 punti su 132 e si basa sulle shrine, sugli strongbox, su nico, ho solo questi punti ma sono abbastanza, e il resto ho messo scarabs e le cose delle mappe che le rendono un po' più forti, tipo questo, tipo questo, tipo questo. Il tri è molto semplice, c'è questo nodo che mi permette di sostenere meglio le mappe e ho messo come scarab questo perché al momento gli ambush sono i più costosi che ci sono, però se la fate anche solo domani, dopo domani, così, prima di mettere tutti i punti, prima di mettere questo punto, andate su Pio e Ninja, guardate gli scarab, cercate quali sono i più costosi e mettete questi. La stessa cosa va detta di qua, io ho tolto il ritual e ho tolto il delirium perché questi scarab non valgono niente, mentre ho ultimato, ma ad esempio l'ho ottenuto perché valgono tanto. Controllate e decidete quali togliere. Se doveste avere meno punti, che non ne avete 130, potete facilmente togliere questi, questi due, questi, e già così andate a 118. Se invece la vostra build fa fatica a fare queste mappe, una bella cosa che potete togliere è questa, questi che li rendono molto difficili, e cambiare il cappello da qua a qua, che le mappe così diventano un pochino più facili. Tutto quello che avanza, che vi mancano punti, togliete gli scarab, potete togliere questo, ma potete anche togliere questi tre, perché io finora avrò rannato 100 mappe e un cartografi scarab, non l'ho ancora trovato. Vi metto al volo la pot del loot, contate che mancano 20 strand perché volevo andare avanti a rannarla, non ne avevo più e allora le ho tirate fuori, lì quando vedete i buchi è per quello. Ma soprattutto voglio farvi vedere il nostro bellissimo Wealth Exile, che ci dice quanto abbiamo guadagnato. In 30 mappe abbiamo fatto 9 divine e mezzo, e io rannavo circa una mappa in 3 minuti. Come vedete la maggior parte del guadagno, a parte il divine, che devo dire si droppano abbastanza, viene dalle T17, per questo io ho rannato Strand e Dark Forest perché hanno buone T17, un po' dagli scarab, e subito dopo dai chaotic resonator. E ragazzi io ve l'ho detto, ho appena fatto un video, guardatelo su Nico, rende tanto, non c'è niente da fare. Il resto è tutto loot tranquillo. Il mio filtro non mi faceva vedere niente di currency sotto l'uncaos, quindi ho lasciato indietro valor, braghetto e cose del genere, e nessuno scarab sotto i due caos. Come vi dicevo, ho usato un sulfide scarab e nel filtro ho bloccato tutte le cose, e si può vedere che sulle mie 30 mappe ho fatto circa 44 caos a mappa. In più, in 30 mappe sono arrivato a farmare 155.000 gold, che mi hanno anche permesso di fare la challenge in Kingsmarch, che non è male. Quindi io ve la posso consigliare, non è facilissima, soprattutto se tenete quei nodi delle mappe che vi ho detto, se togliete la parte sopra diventa più facile, ed è un ottimo modo per avere il gold per fare tutto quello che volete. In più, la currency che droppate è comoda, quindi riuscite a sostenervi tranquillamente da soli. Se vedete, io in media do, droppo quasi una strand a mappa e mezza Dark Forest, quindi la strategia si autosostiene, l'unica cosa ogni tanto bisogna comprare gli scarab del Delve. Ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. A me questa strategia ha aiutato tanto, se qualcuno di voi la proverà, sono sicuro che aiuterà anche voi. E adesso finisco di fare il villaggio, e poi comincio a provare le varie strategie come Senze, Bestie, tutte quelle cose che a me piacciono un sacco. Se il video vi è piaciuto, mettete un mi piace, se avete delle domande, lasciatelo nei commenti, se volete supportarmi, trovate il link qua sotto, potete regalarmi uno stash alla Gilda, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!